questo è il ponte ciclopedonale della zona i saloni e purtroppo ogni tanto anzi qualcuno continua a passare con le moto e ovviamente fa i danni che vediamo a cui dobbiamo ringraziare fammi capire angi ma sto gradino che rotto qua sul ponte c'è cosa c'è uno dei sette della mattina e due mattini moto passa costo fare quel casco e quindi crepa il ponte l'altra volta hanno rotto mi pare dei cinesi con una bombola giusto grazie allora domani mattina ore 7 andiamo a vedere chi è questo fumo che passa per il ponte quella moto ciao